Benvenuti ragazzi, sono Rob, benvenuti al mio canale Oggi stiamo qui a rivedere quelli che sono stati l'acquistico effettuato nella prima parte di dicembre Ovvero nelle prime due settimane di dicembre, diciamo anche negli ultimi giorni di chietti di novembre E nulla, partiamo! Iniziamo da quello che è stato l'acquistico fatto per Star Comics In maniera particolare ha appostato il numero 46 di Gintama, eccolo qui Il numero 47 di Gintama, eccolo qui Il numero 48 di Gintama, eccezionale Il numero 49 di Gintama, eccolo qui E il numero 50 di Gintama, eccolo qui Per non bastare il numero 51 di Gintama, eccolo qui Ovviamente scritto e disegnato da Hideachi Sorachi A prezzo di copertina di 4,90€ e dietro da Star Comics Faccio vedere alcune tavole del mangaka Eccole qui Disegno decisamente bene, tutto per una rivista di Gintama, è assolutamente un grandissimo mangaka Il mangaka è veramente molto divertente, simpatico, parodistico Ma comunque con anche molte riflessioni dal punto di vista emotivo e momenti seri Per cui consiglio sempre Gintama un sacco Passiamo ad un altro recupero, ovvero a Neo Kiseichu Ragazzi, io ho amato Kiseichu e di conseguenza ho deciso di recuperare Neo Kiseichu Sono una serie di storie autoclusive riguardanti appunto Iparassita, Le Destri e Shinichizumi Alcune storie sono molto carine, altre diciamo che possiamo anche sorvolare Tra gli autori che hanno fatto dei domani c'è anche Iromashima autore di Fairy Tail e Rave La sua storia non è piaciuta molto Mentre la storia, la prima storia che riprende il figlia, la figlia di Robert Amelia, mi è piaciuta molto E anche la storia in cui comunque i Parasiti vengono utilizzati dagli esseri umani come armi di guerra Quella molto interessante Diciamo che possiamo abbastanza sorvolare Anche perché comunque è un prezzo di copertina di 9,95 euro Quindi comunque molto caro Ed è della Gowen Incredibilmente Faccio vedere anche con le tavole E poi ovviamente ogni storia è diversa Vedete comunque le tavole ovviamente cambiano in base alla storia Però alcuni disegnano bene, alcuni disegnano un po' peggio Poi ho recuperato ovviamente come avete visto anche il Jojolion Il volume speciale Variant per Rucca Comunque in questo video vi metterò anche la scheda qui sopra Bellissimo, bellissimo questo volume Edito ovviamente da Star Comics nella prossima cortina di 6,90 euro Anche se io l'ho pagato 12,18 euro Ma al suo bello trovate a 15,50,60,70, alcuni una volta ancora 100 euro Quindi io poi se ti ho fatto un affare a prenderla solo i 18 euro E sono votato per il conflitto, non credo che mi stavo fanno di arachi E volevo assolutamente avere questa opera Poi ho recuperato sempre gli arachi Così per loro anche scibe il numero uno Sono una serie di storie autoconfettive riguardanti appunto Rohan Kishibe Edito dalla Star Comics è la prossima di 5,50 euro E alcune storie molto interessanti come la prima della professione tra l'altro a Venezia E l'ultima che si trova da Gucci Le altre diciamo che sempre un po' di stranezze Vedete comunque che è una storia di controllo che tu sai Sempre la quarta e quarta Se riconoscete lo chef quello italiano Anche lì è una storia molto interessante riguardante appunto delle conchiglie nere Se non mi sbaglio Molta stramba Ma all'alachi sappiamo che è molto strambo Ma a me piacciono i pazzi ragazzi Quindi ve lo leggo molto volentieri Mi piace Poi Ho ricoperto invece come fumetto italiano Samuel Stern Ho fatto un video in cui le riguarda insieme ad Attica Per cui lo lascio nelle schede se non l'avete ancora visto Un fumetto molto interessante In questo caso detto da Bugs Comics A prezzo di 3,50 euro Quindi a prezzo molto vantaggioso Vi faccio vedere alcune tavole Disegni come ho detto comunque che i video non sono alla fine del mondo Ma sono accettabili Tra l'altro questo fumetto lo potete trovare soltanto in edicola La scelta comunque di Bugs Comics Di probabilizzare le edicole E quindi tra l'altro in edicola Per cui se siete acquistati dovete comunque andare in un edicola È un nome molto interessante In realtà mi è piaciuto Per cui sicuramente lo continuerò Poi vi farò magari facendo una recensione più dettagliata Quando magari arriviamo a 5 o 6 Fatemi sapere se siete interessati Passiamo poi invece all'ultimo recupero Ovvero Il cartonato di Dragonero Se per come fumetti italiani Come vedete la Sergio Morelli di Odore A prezzo di copertina di 28 euro Qui parla delle origini del romanzo di Dragonero È bellissimo ragazzi Veramente bellissimo Le tavole tra l'altro sono fantastiche Faccio le tavole a vorrei coprire Perché sono fantastiche Del mondo di Dragonero Bellissima questa serie di questo volume Veramente bellissimo Della Sergio Bonelli Io ve lo consiglio veramente vivamente Tra l'altro ragazzi Ditemi voi cosa fa adesso con Dragonero Perché ho visto che c'è un rebut Quando inizio di nuovo il personaggio Quindi se iniziare da lì Perché ancora non è iniziato Ero curioso Ero curioso di acquistare questo Oppure magari Continuare la serie vecchia O addirittura magari La mia idea iniziale Era quella di Comparlo di cattonati vecchi Così direi di Dragonero Che a colori veramente Rende il sacco E magari inizierà la serie nuova In bianca e nero Fatemi sapere voi Se avete magari già letto Dragonero E le vostre impressioni Niente ragazzi Il video a questo finisce qua Ci vediamo in un prossimo video Bene ragazzi Grazie a tutti.